ciao chi li prendi di mezzo e oggi apriamo un uovo di pasqua così passeremo qualche minuto ed è uno beh non il primo che avrei comprato questo qui è l'indoor quindi io mi chiedo che sorpresina possa esserci dentro a parte i cioccolatini indicati qui costa 14,90 forse l'abbiamo pagato quindi vuol dire che avremmo potuto comprarci dei giocattoli pensate un po ma allora apriamolo subito 320 grammi beh il cioccolato non sarà malaccio visto che l'int naturalmente anche se un cioccolato particolare non è per tutti i palati è molto burroso molto molto dolce apriamo la nostra confezione da vuoi di pasqua c'è caduto lo scontrino dentro cosa c'è qui il nostro uovo sul suo sostegno c'è anche scritto l'int pensate un po tolgo subito di mezzo la carta dorata che mi fa impazzire il telefono eccolo qui è dentro dunque immagino che ci sia tanto per cominciare mannaggia fermi tutti ecco è comparso magicamente un vassoio perché non voglio rovinare il piano blu con il cioccolato allora apriamolo so che sto facendo una bella figura ecco qua la capsula è bella grossa e con terra immagino quattro cioccolatini benissimo e un gioiello il tesoro dei pirati abbiamo subito il tesoro dei pirati che per qualcuno sarà da indossare per me invece potrebbe essere veramente il tesoro dei pirati quando mi metterò a giocare con i pupazzetti dei pirati ecco qui allora è anche un certo peso e devo ammettere è un braccialetto con una caramellina linta appesa un cioccolatino e vola beh in realtà non è male come sorpresa e guardate wow e poi c'è tutto il cioccolato da mangiare insomma non è malaccio voi che ne pensate ditemelo qua sotto ciao